Si chiama Homes for All ed è il progetto per promuovere una strategia di servizio sociale abitativo inedita rispetto all'attuale per individuare le proprietà libere o occupate che potrebbero provenire sia dalle procedure giudiziarie sia da altra origine, quali ad esempio appartamenti inutilizzati o da donazioni. È stato approvato questa mattina dalla Giunta Comunale e vedrà insieme all'amministrazione enti privati profit e non profit tra cui Camera di Commercio di Torino e Compagnia di San Paolo a sostegno dell'housing sociale attraverso l'acquisizione di immobili.